Riapre ufficialmente uno dei locali più cool della provincia di Verona. Grande evento per l'inaugurazione svoltasi ieri sera in un'atmosfera davvero raffinata e di grande classe, con ospiti illustri e tante novità. È un progetto che parte innanzitutto da un'idea e da una necessità che abbiamo sentito, cioè quello di ricreare un locale in cui si possa rivivere un po' quella che è la cultura della vita notturna, del mondo notturno. Quindi andiamo alla ricerca di prodotti di qualità, prodotti del territorio, offrendo un intrattenimento degno di questo nome, quindi un intrattenimento orientato verso il jazz, la musica blues, il cantautorato, lasciando spazio anche al DJ set, a serate più giovanili, come quella del mercoledì o del venerdì. Sono molto contento di aver invitato e loro hanno accettato il nostro invito con i Flabby. Poi abbiamo Giulia Monti che è la violencellista di Malika Iane, quindi ci fa ancora piacere perché il livello e la qualità della musica che vogliamo proporre è molto alta e quindi con loro siamo partiti e partiamo bene, direi. Vi presentiamo i Flabby allora. Cosa ci proponete questa sera? Ciao! Facciamo un DJ set con delle incursioni anche nel mondo live. Fabrizio mette la musica, Giulia suona il violoncello, io canto un paio di pezzi. Siamo molto contenti di essere qua perché la nostra musica, devo dire, in maniera del tutto naturale viene spesso scelta da location e da club molto molto eleganti e raffinati come questo e per noi è un motivo d'orgoglio, insomma ci piace pensare che la nostra musica possa attecchire piacere al pubblico di questi locali così chic. Era un locale estremamente importante per tutto il nord Verona. Oggi con questo nuovo format darà effettivamente un servizio alla clientela di questo territorio che è un territorio turistico ma non solo, è un territorio per gli imprenditori veronesi che qui potranno trovare effettivamente un ambiente dove poter incontrarsi, magari fare un po' di business o passare dei momenti assolutamente tranquilli e sereni davanti a un buon bicchiere di vino. Finalmente riapre questo locale, attendavamo la riapertura da molto tempo, soprattutto noi che viviamo nelle zone del Baldogarda. Questo è un locale di qualità e che offrirà un valore aggiunto anche all'offerta enogastronomica e turistica del nostro territorio. È un locale sicuramente molto bello perché è un locale dove i giovani so che si ritrovano volentieri quindi è un punto di riferimento importante per questa zona. Diremo che è un punto strategico bellissimo e soprattutto adesso c'è Giuliano che è un mio carissimo amico perciò ci sono venuto con molta soddisfazione e vedo che c'è tantissima gente, sarà sicuramente un successo. Aperta tutti i giorni dalle 7 di mattina alle 2 di notte, la Pedrera è immersa nel verde delle colline di Affi, a due passi dall'uscita autostradale e dal lago di Garda.